Buongiorno, mi chiamo Falkanis e gestisco gli uffici Remax a Logano e a Punto Teresa. In questo video vorrei mostrarvi i vantaggi di lavorare con Remax per l'acquisto e la vendita di immobili. Il primo vantaggio, la valutazione dei prezzi. L'accento è posto su prezzi realistici finanziati anche dalla banca. Il secondo vantaggio, vendite e acquisto con DEIF, la procedura di offerta digitale di Remax, comprare e vendere in modo trasparente al miglior prezzo. Il terzo vantaggio, in collaborazione di Remax e la Zurich Assicurazione, vendiamo immobili con una garanzia immobiliare. Le visite virtuali. Fate le prime visite di immobile virtualmente sullo schermo di casa vostra e le visite in loco solo nelle immobile che vi interessano veramente. Il quinto vantaggio, con i nostri partner finanziari ricevete le migliori offerte di ipotecario da oltre 100 banche e assicurazione di tutta la Svizzera. Il sesto vantaggio, comprare con la formula affitto riscatto. Lei diventa proprietario entro cinque anni e risparmia l'affitto per l'acquisto della casa dei suoi sogni. Per ulteriore informazione, contattateci a Lugano su 091 924 0060 o a Ponte Presa su 091 960 2050. Vi aspettiamo.